Ecco un fumogine per il nemico. Eccomi una bella cronata fumogine. Ecco una cassetta medica. Ecco un fumogine per il nemico. Attenzione! C'è un ricognitore! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! C'è un assaltatore! We have taken the sector. Ah! Quello è un ricognitore! Clear the sector from enemy presence. Munizioni, avanti! We have secured the sector. Ecco dei proiettili! Prontate le mu... We have taken the sector. We have secured 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 the sector. A flametrooper kit è disponibile per il vostro location. Ecco qui un po' di munizioni. Ecco dei proiettili! Medico, laggiù! Un po' di munizioni! Un po' di munizioni! Un po' di munizioni! We have secured the sector. A sentry kit is available near your location. A sentry kit is available near your location. A sentry kit is available near your location. Petico! Mi hanno ferito! A sentry kit is available near your location. 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 We have secured the sector. 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 We have taken Objective Apples. We have taken Objective Apples. We have secured the sector. 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 Half of our forces remain. We have secured the sector. 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 50 of our soldiers remain hashtag nemico individuata nemico Vedo un assaltatore nemico! Ragazzi, è un bombardiero inimico! L'attacca ha finito, ma questa combina non è finita. Se ci siamo insieme come true italiani, i questi luoghi che facevano ci, saranno sbagliare, e l'Empire si falle. Siamo rinforzati. Ah, signor. Il tuo vinto non lo ha detto! Andiamo attenti, c'è un soldato! Visto! Uno dei loro soldati! Soldato nemico individuato! Attenzione! Quello è un soldato nemico! Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Un medico a tiro! Raggiù! Un assaltatore nemico! Lì c'è un assaltatore nemico! Ehi! Quello è un assaltatore! Lì c'è un'assaltatore nemico localizzato! Avvio! Lì c'è un'assaltatore nemico! Lì c'è un'assaltatore nemico! Lì c'è un'assaltatore nemico! Lì c'è un'assaltatore nemico! Grazie a tutti.